Siamo qui per presentarvi tutte le novità per il 2018, Sintiq 24 Pro, Sintiq 32 Pro e vediamo i nostri artisti cosa stanno lavorando. Uno sfondo particolare quest'anno perché c'è una sorpresa, il film d'animazione che tutti stanno aspettando che è stato analizzato con prodotti Wacom. Allora io sono nativo su carta ma in realtà sono rimasto su carta per pochissimo, dopodiché sono passato subito a tavolette grafiche e mi è cambiato tantissimo la vita. Per me Wacom è un prodotto indispensabile perché riesce a darmi lo stesso feel, il feel che io cerco effettivamente in uno strumento e nel modo di lavorare e di disegnare. Ma se devo fare qualcosa che invece è professionale, professionistico e che serve mirato al mio lavoro, devo assolutamente usare uno strumento che mi permette di muovermi in continuazione. Per me il disegno analogico non esiste perché io passo le ore letteralmente sulla mia Mobile Studio Pro 13 pollici a disegnare sempre perché nella realtà non esiste il contro in z mentre nella Mobile Studio Pro. Sare dalla carta al digitale per me è stato essenziale, adesso non posso più farne a meno. Sare da carta al digitale per me è stato un po' di 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 un po